L'hotel Pignatelli è ubicato in una zona strategica della provincia di Pescara, non lontano dal Parco Nazionale della Maiella, a 5 minuti dall'uscita delle autostradi a 25 e a 14. La struttura dispone di camere climatizzate, doppie, triple e camere family a 4 letti. Le camere, luminose e spaziose, pensate anche in base alle esigenze delle persone diversamente abili, sono dotate di tutti i comfort. Telefono, tv, servizio wifi, bagno privato, phone, cassaforte, balcone con vista sul massiccio montuoso della Maiella. Tutto l'hotel Pignatelli si caratterizza per il suo stile moderno e confortevole. L'hotel offre la possibilità di pranzo e cena con ristoranti convenzionati e agriturismi nelle vicinanze. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS